Una folla è corsa in moto, una vita che si spegne in maniera violenta, un'altra che lotta tra la vita e la morte. Il tragico bilancio del violento incidente che stamattina si è verificato a Salerno sul tratto di strada del lungomare Marconi davanti a Lido Aurora. Un centauro di 24 anni ha travolto ed ucciso con la sua moto un 76enne che attraversava la strada. Il ragazzo ora versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Secondo una prima ricostruzione il tragico incidente si è verificato intorno alle sei del mattino quando il traffico veicolare non è ancora quello delle ore di punta. Questo deve aver indotto il centauro a mettere alla prova i cavalli della sua moto al punto di raggiungere una velocità elevata. Fin troppo per evitare il 76enne che stava attraversando la strada. Colpito in pieno l'anziano signore è stato trascinato dalla moto ormai fuori controllo per almeno un centinaio di metri. La corsa del mezzo si è arrestata contro un palo segnaletico nei pressi di una pensilina della fermata dell'autobus. Immediata la richiesta di rissoccorso ai sanitari del 118 giunti subito sul posto la scena che si è presentata è apparsa tragica fin dal primo momento. Il 76enne era già senza vita mentre il centauro 24enne era ancora vivo. Stabilizzato è stato subito trasportato all'ospedale di San Leonardo dove è stato disposto il ricovero in rianimazione. Alla polizia il compito dei rilievi sulla scena dell'incidente e soprattutto stabilire con certezza la dinamica del tragico impatto. La prima certezza è che comunque quel tratto del lungomare Marconi è da sempre utilizzato da centauri in vena di duelle e corse ma anche da piloti d'auto per partenze da gran premio e peggio ancora da corsia di prova per il chilometro lanciato. Insomma su quella strada si corre davvero troppo e da sempre. Il classico tratto dove posizionare un dispositivo di controllo che faccia da deterrente magari anche un autovelox che invece non c'è. E purtroppo stavolta a pagarne le conseguenze è stato il povero 76enne molto conosciuto nella zona per la sua parentela con i titolari dell'Ido Aurora.